Ciao! Allora, sono andata, anzi siamo andati a fare la spesa all'Eurospin e adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Allora abbiamo preso questa carta igienica dalla Soft Dream con il coniglietto, due veli, poi l'insalata sfiziosa, foglie verde già pronta per condire, brioche al cioccolato, con crema a bigusto, poi abbiamo preso i pandolciando 9 pezzi, poi abbiamo preso la, aspettate che zoom un po' di meno, la coca cola da un litro con la stevia, poi le cotolette di pollo con gli spinaci, poi abbiamo preso questa bevanda alla mela verde che era in offerta a un euro, poi sempre dell'aperto solo questo succo all'ace, sempre un euro, poi abbiamo preso le uova, il mangiare per il cagnolone, due con manzo, pollo, riso e carote e due con manzo, patate e verdure, poi abbiamo preso il pane, i pomodori da mezzo litro, pomodori da mezzo filo, l'olio d'oliva extravergine, la cicoria tagliata, poi il mio fidanzato si è preso il dentifrice white room, fresh whitening, azione sbiancante, perché cambio mano, la crema alla nocciola, pure di patate in fiocchi, un altro succo all'ananas, e poi da provare il mais tostato che mi hanno detto che è buonissimo, e poi il, per me, ho preso il balsamo per capelli normali con multivit shuttle, insomma questo qua, della near you have, e basta, niente, questo anzi no, poi dopo siamo passati anche dall'IKEA, e abbiamo preso questi contenitori, che ce ne sono dentro due da, insomma sono dei contenitori, ce ne sono dentro, allora, due da, 14x14x16, poi ce ne sono due da, 12x12x14, insomma ci sono tutti questi capper di contenitori, passiamo presi all'IKEA, poi dopo all'IKEA abbiamo preso anche il secchio col mocio, no, con lo strezzatore, e poi, basta, siamo passati anche dai cinesi, abbiamo preso altre cose, sempre all'IKEA abbiamo preso un set di lenzuola nere con le fedele, dei copricuscini, delle candele, e basta, niente, questo è tutto quello che abbiamo preso all'Eurospin, e anche un po' IKEA, niente, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto spolleciate, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!